Questo mettiamolo in testa. Gesù è il giusto, non è il peccatore. Ma Lui ha voluto scendere fino a noi, peccatori. E Lui prega con noi. E quando noi preghiamo, Lui è con noi pregando. Lui è con noi perché è in cielo pregando per noi. Gesù sempre prega con il suo popolo, sempre prega con noi, sempre. Mai preghiamo da soli, sempre preghiamo con Gesù.